Buongiorno lettori, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo video. Io sono Alessia e qui su Alibrary parliamo di libri e oggi in particolare parliamo di premio strega. È ormai una tradizione fin da quando ho aperto il canale dedicare un po' di spazio al premio strega, vale a dire al premio letterario più importante, più conosciuto in Italia. Qualche giorno fa è stata annunciata la dozzina, quindi i 12 titoli candidati al premio. A giugno tra i 12 candidati si sceglieranno cinque finalisti e poi nel mese di luglio verrà decretato il vincitore. Ho atteso un po' prima di girare questo video, forse anche qualche giorno di troppo, sono un po' in ritardo, arrivo quasi fuori tempo massimo. Dicevo ho atteso qualche giorno perché quando ho visto i 12 libri candidati al premio, quindi quando ho visto la dozzina, ad un primo impatto ho pensato di avere a che fare con una dozzina un po' sottotono, poco stimolante, poco interessante, non c'è nessun romanzo che spicca e soprattutto nessun romanzo ha acceso poi così tanto la mia curiosità, nessun romanzo mi ha fatto venire così tanta voglia di leggerlo. Ho però lasciato decantare questa impressione qualche giorno, mi sono studiata un po' meglio la dozzina e alla fine mi sono decisa a girarlo questo video, quindi oggi che cosa facciamo? Passiamo in rassegna i 12 titoli della dozzina dello strega e alla fine del video vi dirò quali romanzi ho scelto di leggere e anche perché. Prima però di entrare nel vivo di questo video vi ricordo che oggi con il gruppo di lettura cominciamo a leggere quel che resta del giorno di Ishiguro. Se vi va di leggerlo insieme a noi trovate il link per unirvi al gruppo telegram qui sotto. E già che ci sono, se oggi capitate qui per la prima volta, vi piace leggere, vi piace sentir parlare di libri e di letteratura, siete nel posto giusto, quindi iscrivetevi al canale e attivate la campanella per restare sempre aggiornati con i miei contenuti. Il primo titolo della dozzina, leggo, è Nella stanza dell'imperatore di Sonia Aggio, pubblicato da Fazzi. È un romanzo storico che racconta la storia dell'imperatore Giovanni Zimisce che è vissuto nel X secolo. Il secondo titolo della dozzina invece è Adelaida di Adrian Bravi, pubblicato da Nutrimenti. Racconta la storia di Adelaida Gigli, che è nata nel 1927 e che a soli quattro anni si trasferisce con la famiglia, il padre e la madre erano entrambi artisti, si trasferisce con la famiglia a Buenos Aires. È stata artista, scrittrice, giornalista, attivista per i diritti civili e anche membro militante del fronte di liberazione omosessuale. Quindi si tratta a tutti gli effetti di una biografia. Terzo titolo, Paolo Di Paolo, romanzo senza umani, pubblicato da Feltrinelli. Questa dovrebbe essere la storia di un uomo che deve fare i conti col suo passato, ma in questo titolo, a quanto ho capito, è anche presente il rapporto tra uomo e natura. Quarto titolo della dozzina è invece L'età fragile di Donatella di Pietrantonio. La protagonista è Amanda, che è fuggita in giovane età dalla sua terra natale, l'Abruzzo, e si è trasferita a Milano. Vi ritorna a distanza di anni e riporterà alla luce un episodio traumatico verificatosi durante l'età dell'adolescenza. Altri personaggi centrali all'interno del romanzo, da quanto ho capito, sono il padre e la madre, quindi immagino che in questo romanzo si affronti anche il tema del confronto tra generazioni. Il quinto titolo della dozzina è Autobiogrammatica di Tommaso Giartosio, pubblicato da Minimum Fax. Questo romanzo si concentra sul tema della lingua, attraverso cui si sostanziano, diciamo così, la nostra personalità e anche la rete di rapporti familiari e non in cui siamo immersi. Chiaramente l'orizzonte di riferimento è Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Sesto titolo, Cose che non si raccontano di Antonella Lattanzi, pubblicato da Einaudi. È un memoir che racconta il desiderio di mettere al mondo un figlio, ma anche il dolore per la mancata possibilità di realizzare questo desiderio, questo sogno. Il settimo titolo è invece Dalla stessa parte Mi troverai di Valentina Mira, pubblicato da Sam. Questo romanzo racconta della strage di H. a Larenzia del 7 gennaio del 1978 in cui vengono uccisi due militanti di estrema destra. A distanza di anni, nel 1987, Mario Scrocca, che invece è un uomo, un esponente dell'estrema sinistra, viene arrestato e accusato di essere in qualche modo responsabile della strage. Queste vicende sono però intrecciate a quelle di due donne che invece si incontrano nel presente. La prima è la vedova di Mario Scrocca, che è morto suicida in carcere, e l'altra invece è Valentina, che ha frequentato nel corso della sua giovinezza alcuni esponenti appunto dell'estrema destra, della destra neofascista. Titolo numero 8 è Storia dei miei soldi di Melissa Panarello, pubblicato da Bonpiani. L'autrice è meglio conosciuta come Melissa P, che quando io ero giovanissima, adolescente, aveva pubblicato un romanzo che fece molto scalpore, Cento colpi di spazzola prima di andare a dormire. Si trattava di un romanzo autobiografico in cui si raccontavano le esperienze sessuali, diciamo al limite, della della voce narrante. Dal libro è poi stato tratto un film e, a quanto capito, in questo romanzo l'autrice incontra l'attrice che nel film tratto dal suo libro l'ha interpretata. E quindi anche questo è un memoir che ha interpretato la lei quindicenne. Il nono titolo invece è Il fuoco invisibile, storia umana di un disastro naturale di Daniele Rielli, pubblicato da Rizzoli. Anche questo è un romanzo in cui l'autore attinge alla sua biografia e racconta dell'epidemia che sta decimando le piante di ulivo nel Salento. Questo titolo è a metà strada, si colloca a metà strada tra il romanzo e l'inchiesta giornalistica. Decimo titolo, andiamo verso la conclusione. Aggiustare l'universo di Raffaella Romagnolo, pubblicato da Mondadori, ed è un romanzo che descrive il rapporto tra un insegnante e una sua giovanissima alunna negli anni immediatamente successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale e quindi immediatamente successivi all'occupazione nazifascista. L'undicesimo titolo è Il romanzo di Chiara Valerio, Chi dice e chi tace, pubblicato da Sellerio. Racconta di una donna, Vittoria, che si trasferisce in un piccolo paese del Lazio. È una donna che fa parlare di sé perché ha un carattere molto amichevole, la sua casa è sempre aperta, gestisce una pensione per animali, ma nonostante non si sia mai completamente integrata nella comunità in cui vive, però non ci sono mai stati problemi. Se non che un giorno viene trovata morta nella vasca. Immagino che questo sia un romanzo che parte da uno spunto che è tipico del romanzo giallo, quindi una morte misteriosa che somiglia ad un suicidio, ma immagino poi prenda ben altra direzione. Concludiamo con Invernale di Dario Voltolini, pubblicato dalla nave di Teseo, che analizza il rapporto di un padre che fa il mestiere del macellaio e il figlio, a quanto pare in modo molto particolare, perché riferendosi proprio al tema della carne, del corpo fatto di sangue, di tendini, di ossa, di muscoli, la natura viscerale corporea di questo rapporto viene descritta con immagini molto disturbanti. Che dire di questa dozzina? Forse un po' più varia rispetto a quella degli scorsi anni. Infatti gli anni scorsi l'intenzione era sempre quella di andare alla ricerca di un tema comune, di un filo conduttore che tenesse uniti, che caratterizzasse un po' tutti i titoli della dozzina. Ma secondo me si trattava di una pessima idea perché si appiattiva moltissimo la dozzina innanzitutto in termini di varietà ovviamente, ma anche in termini di qualità. Quindi sono felice che questa brutta abitudine sia stata perlomeno questa volta messa da parte. È comunque sempre troppo alta secondo me la quota memoir. Io voglio lanciare un appello, voglio fare un appello agli autori italiani, ridateci la fiction. Che poi io stessa ho candidato al premio Booktube Italia un memoir, ho candidato La vita di chi resta di Matteo Ibianchi. Quindi non è che io dica un no a priori al memoir, però per incontrare il mio gusto un memoir deve essere davvero di qualità. Secondo me, e sottolineo secondo me, se un autore decide di mettere nero su bianco, di riportare sulla pagina la sua esperienza, la sua vita, il racconto delle proprie memorie deve però trovare un senso, un significato che sia forte. In altre parole, devi avere qualcosa da dire, devi avere qualcosa da comunicare, che vada oltre, altrimenti non mi interessa e soprattutto che noia. Punto secondo, al di là del cosa c'è il come. Io sinceramente non ne posso più di tutti questi memoir che puntualmente sono raccontati tutti allo stesso modo, cioè con queste memorie, questi ricordi mescolati, ovviamente in ordine sparso, non più in ordine cronologico, perché deve essere il lettore a ricostruire l'ordine, se racconti le cose in ordine sei out, non sei nessuno, ma va bene, ma va bene, vuoi raccontarmi le cose in disordine, ma ci deve essere un senso, ci deve essere una logica, ci deve essere una poetica dietro, altrimenti è puro vezzo. E poi lo stile che nei memoir tende ad essere molto emotivo è personalmente un tipo di scrittura che non incontra il mio gusto. Premesso che non ho letto nessuno dei memoir candidati allo strega di quest'anno e potrebbero essere i migliori del panorama italiano contemporaneo, sto solo facendo qualche considerazione generale. In altre parole mi dovevo togliere questo sassolino dalla scarpa, l'ho detto e lo ridico, ridateci o meglio ridatemi la fiction. Detto ciò cosa leggeremo di questa dozzina? Vi avverto che quando comincio a parlare di me stessa al plurale come gollum vuol dire che sto andando verso l'esaurimento, del resto siamo alla fine al secondo quadrimestre, quindi tutto normale, tutto legolare. Direi, allora nella stanza dell'imperatore ci piace, romanzo storico ci piace a priori. Non sono una grande fan dei bizantini, anzi diciamo pure che li ho odiati tantissimo ai tempi dell'università, ma la storia sembra interessante quindi entro ufficialmente in TBR. Per quanto riguarda Adelaida apro e chiudo immediatamente la parentesi, ci siamo ormai abituati a vedere biografie e saggi candidati allo strega e al campiello, ciò non significa che però siamo d'accordo. Comunque sembra anche un libro interessante, quindi magari me lo leggo pure, un po' come l'anno scorso con la biografia di Joyce Lussu che era candidata inspiegabilmente sia allo strega al campiello, in effetti però era un bel saggio, me lo sono letto molto volentieri, anzi uno dei migliori, dei libri migliori letti l'anno scorso. Poi per quanto riguarda il romanzo di Paolo di Paolo, romanzo senza umani, vi dirò la verità, non mi ispirava per nulla, ma David che ha un canale qui su YouTube che vi lascio linkato qui sotto, lo ha candidato al premio Booktube Italia e ne ha parlato così bene che mi ha convinto, quindi ho deciso di dargli una chance, ho deciso di leggerlo. David se sei lì sappi che se non mi piace sarà tua responsabilità, scherzo ovviamente, però lo ha presentato in maniera molto convincente che mi ha messo voglia di leggerlo, quindi ho rivalutato. Per quanto riguarda l'età fragile di Donatella di Pietrantonio direi di no, ho letto L'Arminuta, ho letto Borgo Sud, non ho voglia di quel tipo di storia, non ho voglia di quel tipo di scrittura, quindi per ora non passa la selezione. Stessa cosa vale per Autobiogrammatica di Tommaso Giartosio, mi fa pensare che sia un libro di qualità il fatto che sia stato candidato proposto da Emanuele Trevi, ma l'idea di leggere un tomo di 440 pagine alla lessico familiare che tra parentesi è tutto fuorché uno dei miei libri preferiti, dirò la sincera verità, mi atterrisce, quindi no. Passiamo ad Antonella Lattanzi con cose che non si raccontano. Non mi interessa il tema trattato, non lo sento mio e sono convinta che lo stile sia proprio quello stile emotivo che non mi piace di cui vi ho parlavo prima. Ripeto che sto giudicando questo libro dalla copertina in maniera totalmente arbitraria, però per me è così. Stessa cosa vale per Storia dei miei soldi di Melissa Panarello, non mi interessa. Mentre dalla stessa parte mi troverai di Valentina Mira, sembra carino, potrebbe interessarmi, lo mettiamo in stand by. È un nì, non è né un no né un sì, è un nì. Invece Il fuoco invisibile è storia umana di un disastro naturale, qui il tema mi interesserebbe già di più, però non mi convince del tutto, quindi per ora è un no. Aggiustare l'universo di Raffaella Romagnolo? Non li so, mi sembra un libro visto e rivisto, anche questo lo lasciamo in pain, forse. Chi dice chi tace di Chiara Valerio? Invece mi sembra interessante, anche perché non ho mai letto niente di Chiara Valerio, sarei anche curiosa di leggere qualcosa di questa autrice, quindi questo lo mettiamo in TBR. Mentre per quanto riguarda Invernale di Dario Voltolini, anche qui è pura e arbitraria speculazione, però mi sembra quel genere di libro che va ad insistere sui fluidi corporei, sui tendini, le ossa, i muscoli, il sangue, e io immagino che tutti questi elementi, tutte queste immagini macabre, dovrebbero assumere un significato metaforico, simbolico, che però io non riesco a cogliere. Quindi tendenzialmente mi sono resa conto di avere un problema con questo genere di letteratura, perché io non riesco a darle senso. Dopo essermi sciroppata, pagine di descrizioni di denti, sangue, pelle, capelli, alla fine mi dico ok. Fondamentalmente tutte queste immagini macabre, che dovrebbero turbarmi e dovrebbero insomma smuovere qualcosa, in realtà mi lasciano totalmente indifferente, ma ripeto, è un problema mio questo tipo di letteratura, faccio un po' fatica a capirla, di interpretarla. Bene fanciulli, per oggi è tutto, come sempre vi aspetto nei commenti per chiacchierare, per confrontarci un po' a proposito di questa dozzina dello strega. Se avete già letto qualcuno di questi 12 titoli, scrivete nei commenti la vostra impressione o magari condividete quali titoli vi ispirano di più. Se volete fare shopping trovate tutti i titoli della dozzina riportati qui sotto con il relativo link affiliato. Io vi mando come sempre un bacione, un abbraccio e vi do appuntamento prestissimo al prossimo video. Ciao!